Ieri va della giornata, ma saremo un'eridate, con bravura io tal di, la mia tua pari in camis, tutti insieme in vecchiazzute, ascoltarimune storiute, con tizzo se mostri di, ogni dì si fa scossì, tutti i miei dottrambi urlano, non sta pieni di papà, non sta la lontan, lontan, sta fer piacchia la mamà, tutti i miei dottrambi urlano, non sta pieni di papà, non sta la lontan, lontan, sta fer piacchia la mamà, e non sta la lontan, lontan, sta fer piacchia la mamà. Ho saputo che vuoi, e sarà l'ultima puntata di questa seconda edizione di mamà, c'è disperazione. E' vero, mi stavi divertendo così tanto, mi disposto una volta. Super compagnia, non stai avvelissi, com'è il team di line ferris, dov'è dare se mo' che svolerà il team, e us conti un segreto, mamà, di ottobre al tornerà a scominciare, e con di più us hai preparato un'e biele sorpresa, un video, con tutti i momenti più divertenti di questa stagione di mamà. Se so' prospare, vi ho dirlo? Sì. Tutto, all'escominciata ai dodis di gennaio, dal 2018, quanto hai proponuta a Daria, di là di fuori ha giuato al giardin con t'une palette. C'eri i dodis, non aveva mica capito che la palette conventava per gioiare con la nera, non vi ho l'ora di gioiare a balis di neve con Daria. Ma... Daria? Sì? Ho rivi? Rivi come? Ah, è chiatà! Ecco, ecco. Ma... Daria, c'è fase se tu combinate così? Ah, tu mi hai detto di portare la palette, dunque, palette, seglo tutto, e vuoi che tu porti anche un materassino e al di comodo per gioiare al Savalò. Ma sei stumato? Savalò? Ma terassino? Ma chi ha lì? Ma chi ha lì me? Ha stucchiato fuori dal barcone? E al mese di marzo? Sì, vissà, non avrei mai creduto a me vita di viodi di dongi e un sbilf. Ha proprio te reso a dire che sono un'evole berechina. O snotto, ovvio da res c'è che ur combinarai. Mamà! Chiara! Shhh! Ma è un parcello. O sei sicura di vessi in tutto e no? La vostri qualche dunca è fedele sotto all'arco. Sì. Sì. L'ho vietta. Alla sbilf di tempo. Guarda bene. Is al culissimo. Non puoi scrodi. Ho seduto emozionato. Non hai mai vietato un sbilf in vita di me? Oh, orpo. Velo, velo che arriva. Non l'ho vietta, ma sei contenta. non voglio fare un sicuro disturbato. Questa, magari vi farò infatti massima confusione. Ma... Ma... Ma dove è? dove è? Non credo di visami di un mese di febbraio così pieno di mattina. Che scusi? Non sai troppo che mi sono divertita in che volta che a carnevale, mi eri travestuto di siore bionde. Po' dopo di home e di fruttine, e tu non tu arrivavi se hai in acquargiti con ieri sempre io. ehm... Oh, mila grazie, signor Ute. Ho ieri indagato di lavorare insieme. Non mi accoglio su, da? Come ho i cordaù e ho provato a fare un altro scherzo? La dipluibile per me è stata che ho potuto visitare tante città dal nostro Friul. E' vero, anche per me. Fru, è arrivato il tuo tempo. Ho deciso di visitare il Friul. La nostra regione è meravigliosa. E ha il mar Turchin, le monti e le belle città. Allora, come ho ieri organizzati? Quindi, lui, è stato geniale. La vostra idea è di contare una storia con i vostri smonti. Oh, bravi, no, ma, vedi. C'è un muro, no? Chiamine, chiamine, a lì era arrivato su per smonti delle carnie e aveva chiamato un animale un nevore grazioso. Mandi, e tu? Qui sei tu? Mandi, io ho in un cerf. Ma c'è voi strane che tu hai. Al di sì, il chiam. Per fuorcio io ho bramisso. Mh, 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 mh. Daria, pensa che tu sei fin tremai arrivata a farmi ballare. Dai, ti insegni io. No, no. E' una danza e un nevore grazioso e semplice. No, no, non ti prendi vergogna. Ma dicè. Ballare, è così bello. Al schial del cuore, tanto chiantare. E fa bene la salute. Oh, so i bieli, oh, so il mesmai Plui che al dottus portarai Cun falcezzi puesserà Ed i fura anch'ie gioà Oh, so i bieli, oh, so il mesmai Dippo, amici, si vedevi di che giornate là che sei preparato una piaccia al tesoro? O sei stadi tan bravi che avessi arrivato ad ora a chiamare la sorpresa che avevi platato sotto la tavola? E io, il luco indolà che si riunissi in le famiglie e a tor, a tor di io sono sempre quattro piadrezze. Mangia! fameis ti adreis faci e sarà dal sicuro la tavola Brava, Daria! Anin! Mi vengiel già l'agegole E aghegole, aghegole se tu sapessi che mi vengono a me 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 Grazie a tutti. 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 Vi ho detto, se os è buons di induvinare tra queste quattro immagini, quali sono queste che rappresentano gli oggetti che non si possono raccontare per conservare i nostri ricordi? Le immagini che rappresentano i due oggetti che non si possono raccontare per conservare i nostri ricordi, ha ero la prima e la terza. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.